Quindi arrivo a presentarvi l'ospite di oggi, una persona che ho conosciuto, guarda caso, su LinkedIn. Conoscevo la sua azienda, ma proprio su LinkedIn abbiamo incominciato a chiacchierare, abbiamo scannato qualche messaggio, è nata l'idea di fare qualcosa. Infatti abbiamo anche una partnership in questo momento attiva, ma soprattutto ci siamo confrontati su un tema che è un po' il tema centrale anche del suo business e che è un tema che tocca sicuramente anche LinkedIn, come altri social network, è il tema della content curation. Infatti il titolo di oggi è proprio la content curation sui social. Ci siamo chiesti, cercheremo di dare una risposta se ha ancora senso. E quindi il nostro ospite, fondatore di SpeedWeed, un imprenditore in abito tecnologico, è Antonio Parlato. Eccoci qua, ciao Antonio, benvenuto. Ciao Alessandro, ciao. Allora, partiamo proprio da te, per chi magari non ti conosce, per chi non conosce anche la tua realtà, se puoi un po' presentarti a chi ci segue. Allora, innanzitutto grazie per questo invito. Mi piace molto questo format della chiacchierata, perché è una cosa un pochino più informale, anziché mitragliarsi di domande. È bella questa cosa. Dunque, io appunto sono Antonio Parlato, e sono un ingegnere informale, quindi nasco con un background più di natura tecnologica che di natura marketing. Quindi la mia prima parte, diciamo, di vita professionale l'ho impiegata presso multinazionali nell'ambito del tech. Ho lavorato per Nokia, quando Nokia ai tempi era un grande colosso, poi vabbè, la storia ci racconta che anche i grandi colossi possano perire, diciamo, in qualche modo, un mercato. E poi, con degli ex colleghi, siamo passati a tutt'altro mondo, dal mondo delle multinazionali a quello delle start-up digitali. In particolare ho collaborato con varie start-up, ne ho fondato una che ad oggi è ancora in piedi, si chiama Speedwit, come Alessandro aveva annunciato in precedenza. e qui è nata un po' la mia parte più marketer. Diciamo, ho sempre avuto la passione per la scrittura digitale, per tutto quello che riguarda appunto il marketing digitale, il posizionamento sui motori di ricerca, i social network e così via. E ovviamente, lavorando presso una start-up che si occupa un po' di aiutare le aziende nella creazione dei contenuti per i social media, mi sono particolarmente specializzato nella parte appunto di creazione di contenuti e anche ovviamente del tema di cui stiamo andando a discutere, che è quello della content puration, che era in grande hype, diciamo, qualche anno fa. Già nel 2012-2013 se ne parlava tantissimo, oggi se ne parlo un po' meno, ma comunque rimane un'opportunità sia per le aziende che per, diciamo, i profili personali. Sì, sì, infatti adesso partiremo magari anche da una definizione, perché noi nel titolo della diretta abbiamo andato un po' per scontato che tutti avessero una chiara idea e definizione in mente della content curation, ma partiamo da lì. Fammi dire però una cosa così simpatica sulla tua presentazione, che già a partire dal tuo percorso, visto che siamo su LinkedIn, ci sarebbero molte riflessioni e confronti da fare, no? Nel senso che oggi i percorsi di carriera sono sempre più differenti, alternativi, bizzari, ci confrontavamo, no? Io vengo dallo studio dell'arte prestato al marketing, tu dall'ingegneria prestate al marketing, non c'è il percorso giusto, ma su LinkedIn ne possiamo vedere veramente di ogni, no? No, assolutamente sì, assolutamente sì. Poi, ripeto, il marketing può essere un punto di convergenza di tante materie, sia il lato digitale, strettamente sia quello umanistico. E come dicevo, è bello anche il confronto tra queste due realtà, perché un po' ci si completa, no? Nelle due visioni differenti. Assolutamente. Allora, come diciamo, partiamo un po' da qua. Sei tu l'esperto del settore, proviamo a dare una definizione intanto di content curation, comprensibile anche per non-marketers. Vediamo se ci riusciamo. Ci provo, partendo proprio dalla parola content curation, quindi curatore del contenuto. È qualcosa che non inventiamo in realtà negli ultimi dieci anni. ed è qualcosa che invece esisteva già di fatto. Qualcuno addirittura parla del fatto che esistessero le prime newsletter di cura addirittura nel Rinascimento, quindi possiamo addirittura sprofondare nella storia. Ma se vogliamo, la cura del contenuto è qualcosa che attiene al semplificare un processo di flusso di informazioni che è sempre in fase di crescita, in modo tale da essere riproposto all'utente finale facendo un'operazione di filtro, di semplificazione. Quindi partiamo da quello che in particolare per il digital viene definito Information Overload. È un concetto che aveva introdotto Alvin Toffler, che era un pazzo futurista, che ha scritto un libro che ha venduto milioni di copie, in cui spiegava semplicemente che un eccesso di informazione sommata a una fisiologica nostra, umana, incapacità di poter assimilare un numero eccessivo di informazioni, portava a un abbassamento della qualità decisionale. Quindi se io ho troppe informazioni a cui dar seguito, ho un problema di fondo poi nel poterle assimilare, metabolizzare, riutilizzare poi in altri contesti. Quindi l'opera del curatore in pratica è quella, cioè accedere a delle fonti, parto da, diciamo, delle fonti da cui mi informo su un particolare topic, su un particolare argomento, vado a verificare quale di queste informazioni possono essere più utili o interessanti o di qualità, dopodiché lo impacchetto, lo presento in maniera tale da poter essere attraente per il mio pubblico e lo condivido. Questo, diciamo, è un processo a tre fasi che riguarda la content curation. Certo. Spiegata facile. Non so se l'ho spiegata facile in realtà. Sì, sì, anche la prospettiva storica che è molto interessante. Già da questa tua prima descrizione emerge il fatto che fare content curation non è banale, cioè non è per forza una scorciatoia che prendo un link e lo butto lì, puoi portarla operativamente sui social, ma ci deve essere un processo di selezione, un processo quindi accurato, un processo di comprensione e in qualche modo di riproposizione che ha bisogno comunque di un po' di tempo. Lo voglio sottolineare perché allora la contrapposizione, l'altro risvolto della content curation è la content creation, quindi creare contenuti nuovi ad hoc direttamente che è altrettanto importante, per alcuni più importanti, per altri meno, poi lì entreremo un po' nel dibattito e però diciamo che visto dall'esterno spesso uno dice beh, non hai tempo di creare contenuti nuovi, fai la content curation, no? Non è così banale perché la content curation non è un processo prendo e butto lì, assolutamente. Ci deve essere chiaramente una attenzione, c'è anche una responsabilità in quello che si seleziona e si propone, per cui è sicuramente magari più rapido che fare sempre contenuti nuovi, ma non è così banale. Mi sembra un primo punto da sottolineare. Assolutamente. Venendo ai nostri ultimi 18 anni, 20 anni di social media, in prospettiva storica il lavoro della content curation ha avuto un po' un'evoluzione, no? Sui vari canali, nei vari momenti storici che tu hai sicuramente osservato in un modo privilegiato visto quello che fate. Vogliamo fare una breve storia della content curation sui social media? Assolutamente sì. Diciamo, la content curation nasce un po' tecnicamente sotto un'altra ala chiamata content aggregation, che in realtà oggi molti dicono content aggregation is not content curation. Però nasceva un po' un po' da quello, cioè semplicemente creare quasi dei mini giornali che contenessero un'aggregazione dei contenuti di vari contenuti presi e varie notizie prese così senza aggiungere note personali alla cosa. Se vogliamo questa nei primi negli ultimi negli ultimi anni ha un po' perso piede perché ci si è accorti che di fatto senza aggiungere un valore personale alla cura del contenuto l'aggregazione a sé sì può essere interessante perché è come se sfogliassi un quotidiano, no? peraltro inciso e tra parentesi ci sono dei giornali che fanno opera di content curation cioè che vanno a prelevare i contenuti di altri giornali riportando poi i propri pareri i virgolettati e così via un esempio tra questi scusa se faccio una digressione è l'AffPost precedentemente chiamato anche come Huffington Post che aveva pochi pochi giornalisti molti blogger che andavano a prelevare da altre fonti creando delle notizie da altre fonti quindi proprio possiamo definirlo un giornale che fa content curation o l'internazionale che va a prelevare gli articoli dalle varie fonti internazionali aggregandoli in un unico in unica diciamo in un unico prodotto finale certo quindi si parte tanti anni fa da questo hype sulla content curation che come dici tu non deve essere affatto un non so cosa creare oggi e allora metta a curare il contenuto di altri ma è di fatto un'opportunità quindi una decina d'anni fa sono nati tutta una serie di software che oggi esistono ma hanno modificato se vogliamo il loro corso il loro decorso anche in base a come si è andata modificando la content curation quindi ad esempio dei software come scupit o paperly che creavano proprio dei giornaletti virtuali che andavi a leggere in cui tu semplicemente andavi ad aggregare la notizia altro ci segnala Carla anche da gospia tra i magazine online che si basano molto su altro assolutamente sì è anche quello è un aggregatore là più sul settore gossip mentre Raffington Post è più sul settore politica news attualità certo il principio è assolutamente quello su quest'onda moltissime aziende anche grosse hanno cominciato a pensare che questo fatto di curare il contenuto potesse essere una cosa attraente perché poi alla fine l'obiettivo qual è cioè stai risolvendo comunque un problema che è quello dell'overload dell'informazione troppa informazione genera anche diciamo come diciamo confusione ma ti afferma anche come esperto del settore uno dice è un po' controintuitivo pubblico le cose degli altri e divento esperto io in realtà sì perché come dicevamo c'è quel quel lavoro che stai facendo di schrematura di aggiunta del tuo del tuo pensiero specifico su quella particolare notizia che a un certo punto ti innalza rispetto alla concorrenza ti fa vedere come un esperto di quel determinato settore quindi non hai in realtà bisogno quindi di produrre soltanto il contenuto ma puoi curare il contenuto altrui aggiungendo diciamo aggiungendo il tuo come ti dicevo quindi si è passati una fase di aggregazione a una fase di cura del contenuto quindi l'aggregazione sono tantissime news messe tutte insieme a forma di giornale poi si è passato una grazie soprattutto al social network e a come è strutturato quel social network alla possibilità della condivisione magari non più del diciamo dell'aggregato ma della singola notizia o del singolo contenuto visto in più sfascettature ad esempio posso vedere una notizia del mondo marketing o del mondo tecnico l'avvento del metaverso andando ad aggregare tutte le fonti che hanno parlato di questa cosa le interviste e così via in un unico contenuto curato e mostrarla alla mia audience quindi facendo un chiamiamo un singolo post se vogliamo così all'interno del social network da dare alla mia audience e quindi semplificare anche un po' il processo di quello che è andare a guardare venti fonti venti sorgenti differenti allora la abbiamo chiarito il fatto che fare appunto la curation è un lavoro no ed è risolve un problema questo è il primo punto da ricordare perché nasce perlomeno per ridurre il problema dell'overload informativo e quindi il valore che si trasmette ho selezionato la buona fonte te la ripropongo con un commento un punto di vista una contestualizzazione differente quello dovrebbe essere il valore che diciamo per i detrattori dovrebbe fugare il dubbio che è una scorciatoia però faccio un po' l'avvocato del diavolo no interpreto i panni del detrattore anche perché noi ce lo siamo messi come punto di domanda ha ancora senso e cerchiamo di dare una risposta cerchiamo che ognuno si dia una risposta alla fine della live noi non abbiamo un'assoluta chiaramente ognuno si darà un po' la propria con gli spunti che mettiamo sul tavolo quindi i detrattori talvolta dicono sì ok è vero però questo è un po' figlio di come si gestivano i social penso soprattutto facebook magari una decina d'anni fa quando l'imperativo era pubblica tutti i giorni ogni giorno bisogna avere uno o più post e quindi non potendo sempre giustamente creare cose nuove usiamo anche con senso e anche con valore la content curation perché dobbiamo riempire dei piani editoriali molto fitti quotidiani ora questa cosa è un po' diversa se passiamo addirittura a linkedin è molto diversa la frequenza di pubblicazione suggerita è sicuramente minore e quindi i dettatori dicono ma non avrebbe più senso allora soffermarsi solo su contenuti completamente originali quindi il punto è sono veramente cambiati così tanto i tempi è veramente figlio di quella logica pubblichiamo tutti i giorni o come la vedi tu? secondo me oggi la questione fondamentale è la parola qualità cioè non basta assolutamente più pubblicare il singolo link dove metti come testo d'accompagnamento il titolo della notizia quella era un po' figlia dei tempi passati si faceva tantissimo si faceva su facebook si faceva tantissimo su twitter addirittura c'erano dei profili che automatizzavano il rilancio di notizie per cui c'erano questi profili twitter che rilanciavano otto otto volte al giorno otto notizie al giorno che ma quello non è un processo di qualità di cura dei contenuti oggi se si deve fare content curation lo si deve fare sì con con continuità perché la continuità comunque è importante perché se io ho un audience che si aspetta che pubblichi non ti dico un contenuto al giorno ma via un contenuto alla settimana che mi sintetizzi tutto quello che di nuovo è successo o tutto quello che possa essere interessante per me nel dato periodo ho bisogno anche di una certa frequenza però ripeto il primo punto fondamentale rimane la qualità per come qualità intendo sempre più cura nel trovare nel fare cherry picking delle fonti di andare a cercare le fonti migliori sempre più qualità nel riproporre la notizia magari con un punto di vista originale desueto con un'angolazione differente magari appunto come dicevo mettendo a comparazione quasi quello che viene pubblicato da più fonti se io non diciamo metto grosso peso su questa parte probabilmente il mio messaggio sarà andrà perso nell'etere nel diciamo nel deep web come lo vogliamo chiamare nel nel buco nero nella seconda pagina di google come direbbe esatto dove nessuno andrà a cercare eh sì anzi in quel caso andiamo a caricare ulteriormente l'overload informativo creiamo una serie di eco della del contenuto che in realtà crea ancora più pesantezza ai feed delle persone appunto non aggiunge valore quindi anziché risolvere il problema quasi potremmo dire lo peggiora in qualche modo il punto quindi potremmo dire che eh quel modo di fare content curation senza valore è figlio di tempi diversi e ora non è più attuale la qualità non invecchia mai e eh ha maggior ragione su questo tema ehm un'altra oggi mi diverto a fare l'avvocato del diavolo eh un altro eh tema che usano i detrattori della content curation è quello eh un po' tecnico e fra poco lo affronteremo no? Cioè dell'algoritmo delle penalizzazioni quindi uno può anche dire ok ho capito che risolvo un problema che se metto la qualità mi aiuta nel posizionamento come esperto di settore ma potrei avere dei problemi tecnici ci arriviamo fra un secondo sul fatto che ehm invece è fatto un buon lavoro questo mi posiziona eh vorrei ricordare quanto è importante anche su LinkedIn noi quando lavoriamo con le aziende per i piani editoriali su LinkedIn che sia in formazione in consulenza eccetera ci vediamo sempre a proporre eh con una periodicità minima comunque una rubrica che utilizzi fonti esterne e il modo in cui noi lo raccontiamo è proprio fai leva su contenuti di terzi chiaramente affidabili per provare la bontà del tuo business e il tuo know-how no? Perché finché ce la raccontiamo da soli diciamola in modo così un po' crudo eh diventiamo autoreferenziale allora va bene avere il know-how interno e raccontarlo ma quando posso fare leva sull'esterno per validare il mio business il mio posizionamento sono ancora più potente no? Quindi anche su LinkedIn questo è un tema assolutamente attuale nella giusta misura e se fatto bene anche effettivamente efficace e qui mi ricollego al netto poi dei tecnicismi quindi alcune volte i dettatori dicono ma Facebook LinkedIn di meno sicuramente Twitter quando ci sono link esterni penalizza allora qui magari daremo un po' una risposta a tutte e due no? Quindi mi farebbe piacere sapere la tua esperienza il tuo punto di vista poi io magari faccio qualche puntualizzazione lato LinkedIn perché questo è un tema caldo allora sì allora tecnicamente la content curation la puoi fare in diciamo in due maniere diverse uno è appunto approcciandosi con una notizia e postando un link e il secondo invece è fare una content curation in cui di fatto riporto una notizia o un contenuto e potrei creare anche una grafica ex novo questo è un po' a metà tra content creation e content curation perché sto curando il contenuto ma non sto linkando una fonte esterna questa questa seconda è molto utilizzata e peraltro anche su varie altre piattaforme è stata anche molto di successo il mio parere personale è che quando un contenuto è reputato di qualità anche il link qua mi puoi diciamo puoi correggere tu sulla parte diciamo di penalizzazione o cosa conviene fare viaggia bene cioè nel senso che se prende piede il post ha delle interazioni poi il fatto che io tenti di portare l'utente al di fuori della piattaforma perché poi è quello che la piattaforma alla piattaforma non piace il fatto che tu esca fuori dalla piattaforma stessa e quindi un po' tecnicamente si pensa che venga penalizzato qualcosa che faccia questo però se il contenuto è realmente interessante quindi se ha interazioni si immagina che in realtà la cosa vada a buon fine quindi un metodo è proprio evitare la fonte esterna e creare una sorta di infografica questo ci sono vari esempi anche di profili non più linkedin più instagram che fanno questo tipo di lavoro come will factanza che prendono argomenti di attualità e fanno una serie di schede che vengono ovviamente sintetizzano articoli presi da altre fonti però semplificano molto il processo di lettura e là non vai fuori piattaforma poi ci sono diciamo quelli che fanno quasi una rassegna tra le linkedin top voices io immagino che tu abbia sentito diciamo di queste diciamo io ne seguo alcune e devo dire che quello che riscontro io personalmente su questi profili è che abbiano un grosso seguito e delle grosse interazioni cioè mi viene non so se posso fare un nome di un nome cognome all'inter ad esempio Filippo Poletti esatto che fa la rassegna sul lavoro e che pubblica anche link esterni non ha non vedo dei post che abbia un numero inferiore ai 100 ai 100 like o insomma che non abbia commenti che non crei delle discussioni quindi la vedo proprio la qualità e il valore del lavoro che viene fatto dal curator nel mettere il proprio il proprio valore all'interno del post e non credo manchi manchi la poi sulla parte tecnica la mi dici tu un po' tu adesso vediamo intanto ho pingato Filippo l'ho menzionato in un commento vediamo se lo facciamo unire se riesce a unirsi quello è un esempio appunto di content curation di successo in realtà fatta senza link nella maggior parte dei casi ma più con gli screenshot nel suo caso intanto Denise Garagiola infatti dice aggiungo i link in un secondo momento o li inserisco nei commenti come strategia per evitare la presunta penalizzazione che può dare LinkedIn in una piattaforma il tema è spinosissimo qualunque cosa io dica su questo posso essere contraddetto perché non c'è un'esperienza unica da questo punto di vista se partiamo da ciò che è ragionevole se noi fossimo gli ingegneri informatici che devono progettare gli algoritmi delle piattaforme di LinkedIn saremmo i primi a dire ma io voglio mantenere le persone più tempo possibile nella piattaforma vendo anche più pubblicità e faccio chiaramente più profitti ed è assolutamente ragionevole però quello che possiamo quindi se osserviamo poi i grandi dati ci sono tante ricerche la prima fatta da Gaglia Kawasaki nel 2017 altre fatte successivamente vediamo che effettivamente i post che contengono un link nel body copy per intenderci con anteprima nella maggior parte dei casi facilmente cliccabile quindi hanno una penalizzazione guardando i grandi dati in termini di reach ma questo è bizzarro spesso non in termini di click through rate quindi che poi il commento sia guardate il link della fonte sia molto visibile quindi con l'anteprima o sia per esempio nei commenti come alcuni fanno guardando i grandi numeri il click through rate in realtà diventa quasi lo stesso quindi non si penalizza nascondendolo nei commenti questo a favore di chi dice mettiamolo nei commenti però la reach è molto maggiore se non c'è tra l'altro sto citando una ricerca che si trova anche in questo libro l'algoritmo di LinkedIn che è un libro di Gaetano Romeo che è proprio un capitolo dedicato a LinkedIn il primo commento oppure no in cui cita questo esperimento quindi se guardiamo i grandi numeri e vogliamo stare proprio sopra le parti il link penalizza e l'alternativa può essere o non mettere del tutto o mettere eventualmente nel nel primo primo non è mai perché poi cambio di posizione nei commenti come diceva anche Denise che spesso si fa però in realtà il mio punto di vista è diverso cioè al di là dei grandi numeri dobbiamo capire realmente che lavoro stiamo facendo che obiettivi abbiamo e poi farci le nostre statistiche perché alcune volte possiamo confutare questa regola io spesso quando incomincio a lavorare con nuove aziende analizzo un anno intero di post magari di un'azienda per capire trovare dei pattern proprio di recente analizzando un'azienda che mette sempre il link direttamente nel body copy abbiamo visto che siccome erano contenuti molto interessanti ma anche a noi è successo nella nostra pagina aziendale un paio di settimane fa il post di maggiore successo degli ultimi sei mesi era tranquillamente un post con un link con anteprima perché il contenuto era forte come dicevi tu ci siamo assicurati delle buone interazioni a ridosso della pubblicazione quindi quando c'è la qualità che non invecchia mai abbiamo detto si può superare anche l'eventuale penalizzazione noi quello che consigliamo per dare magari un suggerimento pratico qualcuno lo può gradire è non fare solo post con link questo vale che sia una curation o che sia anche una creation valgono anche i link magari al proprio blog aziendale dove si è scritto l'articolo quindi noi suggeriamo nel mix di un piano editoriale assicurati di avere la varietà non avere paura di mettere anche dei post con link quando serve perché vuoi guidare il traffico perché vuoi dare visibilità perché è la tua fonte e quindi ci vuoi portare del traffico ma magari non fare solo dei post con i link esterni riguardo all'inserimento nei commenti c'è una novità probabilmente recente ne parlavamo nei commenti a un mio sondaggio pubblicato proprio un paio di giorni fa su linkedin da qualche settimana su linkedin i link nei commenti per molti utenti non sono attivi non sono cliccabili quindi l'alternativa link nei commenti non è praticabile ora non si capisce se è un baco temporaneo o se è una novità in rilascio progressivo a tutti gli utenti ma molte persone hanno segnalato soprattutto da dispositivi mobili e soprattutto da android ma anche con app aggiornate non era una questione di app diciamo in versioni vecchie che i link non erano attivi nei commenti forse una mossa per evitare questa questa piccola questo workaround staremo a vedere ma quello che per molti è stato per tanto tempo una scorciatoia forse non è più praticabile allora scusa vai vai che mi che mi era sfuggita molto interessante se è una contromossa particolarmente taglia un po' le gambe diciamo un po' sì porta da una parte o a tornare a mettere maggiormente i link dentro al body copy con l'antiprima proprio perché magari l'algoritmo lo penalizza di meno magari questo è parallelo anche a un cambiamento ulteriore dell'algoritmo che penalizza di meno oppure insomma a fare sempre più contenuti che stanno sempre solo sulla piattaforma con una curation un po' diversa come hai citato anche tu prima magari vorrei fare altri esempi però nel frattempo c'è una domanda di Domenico di Benedetto che insomma ci ringrazia della live dell'invito e dice da un punto di vista qualitativo come posso filtrare l'aggregazione di contenuti e fonti varie da fake news o fake contents perché questo è un tema oggi molto sensibile tu sicuramente hai almeno una risposta in casa che puoi sicuramente condividere ma magari hai anche delle idee più generali beh allora io ti posso dire collateralmente alla mia attività ho fatto una trasmissione radiofonica dove parlavo soltanto praticamente di fake news e come riconosce chiamiamolo hobby diciamo non è niente diciamo di professionale anche perché era poi un taglio abbastanza spiritoso anche però quello del tema delle fake delle fake news purtroppo è un tema non facile allora c'è sicuramente il primo punto di partenza è selezionare delle fonti adeguate chiaramente non vado a cercare che ne so delle notizie dal fatto quotidiano o da delle fonti che che non che non sono diciamo cioè se mi vado a informare se faccio se io sono curatore è il mio la mia fonte le mie fonti sono il feed di facebook probabilmente sto sbagliando qualcosa perché là è probabile che venga a mancare qualcosa cioè nel senso che mi vengano proposte un sacco di robe non filtrate se invece utilizzo delle fonti che sono assolutamente buone quindi che facciano informazione da un punto di vista serio già quello è il primo passo chiaramente una volta che io vado a vedere sui social una notizia che vorrei sapere se sia vero o falsa il primo passo è quello di andarlo a cercare su google chiaramente andare a vedere se questa notizia è stata riportata da più fonti autorevoli in quel caso diciamo sto più sereno poi è chiaro che ci sono degli argomenti estremamente difficili e divisivi per cui anche le grandi fonti possono cadere nell'errore ci può stare quello però già scremare alla fonte è un aiuto è un aiuto sì con una battuta Simone dice come wikipedia per chi fa le medie no diciamo una fonte di fat checking diciamo per chi fa le ricerche ci sono anche degli strumenti che possono aiutare in questo allora noi non facciamo questo incontro per fare promozione chiaramente però ciò che voi avete inventato e che avete sul mercato ormai da parecchi anni aiuta proprio anche in questo no Antonio Speedwit sì assolutamente delle fonti preselezionate per la loro attendibilità sì quello che quello che fa Speedwit di fatto è andare già ad avere una selezione scremata da diciamo una redazione umana quindi già quello e poi categorizzare l'informazione cioè abbiamo più di 50 argomenti verticali che passano non so da start up moda food tecnologia information and communication technology ICT e così via tutti questi temi sono trattati verticalmente e Speedwit va a fare un po' quello che il curatore fa manualmente cioè andare fonte per fonte a cercare la singola notizia posto che è possibile fare anche quella all'interno di Speedwit perché c'è una parte di chiamiamola RSS Reader dove addirittura Spirit suggerisce in base al settore quali magazine o giornali o newspaper andare a seguire e posso seguirli verticalmente quindi oltre all'aggregato di notizie su un tema hai anche diciamo il settore verticale e questo diciamo già già aiuta perché un po' sfoltisce quel lavoro che se no sarebbe fatto di Google Alert andare alla ricerca di notizie su quel determinato topic andarla a scremare e così via quello aiuta resta che se non si conosce l'argomento di cui si deve fare curation sarà anche difficile appunto scegliere poi quella che si vuole condividere e aggiungere il famoso valore che dicevamo prima però gli strumenti aiutano molto in questo processo andando verso la conclusione perché sono già passati 35 minuti da quando chiacchieriamo se ci sono delle altre domande vedo che stanno arrivando comunque parecchi commenti grazie ci sono altre domande fatecele pure questo è il momento in modo che potremmo rispondere io faccio un po' un punto e poi ti lascio se vuoi aggiungere delle cose se vuoi portare anche altri esempi che magari possono ispirare in pratica abbiamo un po' risposto alla domanda almeno dal nostro punto di vista mio di Alessandro e di Antonio che sicuramente la content creation ha ancora un senso se viene fatta con la qualità quindi non è più l'epoca di riempire feed di multipli post al giorno solo per per esserci per fare rumore senza qualità senza una buona selezione senza un'aggiunta di qualche cosa ma è ancora il tempo di fare leva su contenuti esterni selezionati attendibili per mostrare il know-how per offrire un'angolazione diversa e quindi coinvolgere i propri follower che si sia persone quindi lavorando sul personal branding o aziende sulla pagina aziendale quindi sicuramente ha senso non dobbiamo temere troppo gli aspetti tecnici di algoritmo ma se li temiamo ci sono diciamo dei workaround o comunque delle buone pratiche che si possono seguire anche lì con una googleata trovate tante cose e poi fatevi però i vostri dati perché le cose cambiano sempre in tempo reale quando si tratta di algoritmi e intelligenza artificiale lascia anche te una conclusione un'aggiunta e poi salutiamo i nostri no no assolutamente sono perfettamente in linea con quello che hai detto è la content curation se fatta con qualità può essere fatta a qualunque livello la fa la fa la grossa azienda dico un paio di nomi per tutti idm adobe addirittura adobe ha fatto un sito di content curation di notizie di marketing quindi i grossi la possono fare ma la può fare anche chi deve curare il proprio personal branding quindi non c'è un soggetto che è escluso da questa cosa l'importante è seguire quelle linee guida di qualità per cui l'informazione non va a finire diciamo nel nulla quella è la cosa diciamo sostanziale quindi importante troviamo la fonte la vogliamo condividere con link senza link quattro righe che spiegano perché la condividiamo che esperienza abbiamo sulla cosa cosa ne pensiamo perché ci riguarda alla fine la riporto un po' su linkedin se pensate perché siete su linkedin perché leggete il feed perché volete tenervi in contatto con persone simili per settore per esperienze con cui condividere punti di vista ed esperienze se manca quella parte lì è come se foste uffici stampa della risorsa che citate fatemi dire quello che vi ho visto fare su twitter negli anni passati non siete lì per quello che sia un lavoro anche solo di semplificazione citavi Will per esempio Factanza che sia un lavoro invece più di approfondimento di ricontestualizzazione di traduzione io leggo delle fonti in una lingua particolare perché magari non è molto comune quelle non so quel tema è popolare in quelle aree del mondo e lo riporto anche solo con un abstract in italiano sembra banale è vero che c'è Google Translate però è un lavoro utile per chi legge aggiunge valore chiaro e il top è anche creare una discussione intorno a quella cosa cioè non avere soltanto la semplice interazione in like ma proprio creare una discussione sul tema allora la like è veramente fatto centro secondo me è lì sì è quello che tutti vogliamo per ogni post poi poi si riesce un po' no l'effetto yo-yo oggi è molto potente anche su LinkedIn cioè post che vanno molto bene post che apparentemente sembrano quasi fatti da un'altra persona perché invece non funzionano ma quello vuol dire anche che si fugge un po' dall'effetto guru cioè solo perché hai avuto te ne è andata bene una volta uno ti vanno sempre tutti bene certo grazie ancora Antonio grazie a tutti grazie ciao a tutti